coloro che sono sensibili al fascino degli audiolibri sono persone forse diverse da quelle che si limitano a leggere molti mi avevano chiesto ma farai l'audiolibro siccome io appunto parlo sempre di audiolibri come farai l'audiolibro del tuo libro quindi sono molto contenta di annunciare ai miei lettori che c'è l'audiolibro mi piace pensare che che ci saranno altri lettori e ascoltatori che raggiungeranno il mio libro che magari non l'avrebbero letto se se non fosse stato registrato con una voce vera quindi sì le mie lettrici poi sono soprattutto donne come in realtà le lettrici in generale in italia però nel mio caso particolarmente quindi mi immagino tutte queste donne che ascoltano il mio libro magari in macchina andando in bicicletta andando al lavoro facendo le incombenze tristi che purtroppo ogni tanto facciamo solo noi o soprattutto noi e mi mette allegria questa cosa è stato come passare dall'altra parte della barricata nel senso che io sono una grande appassionata di audiolibri ne leggo in continuazione e sono anche molto critica o anche molto fan di alcune voci quindi per me la voce di un audiolibro è fondamentale a volte addirittura è almeno importante tanto quanto se non più del testo stesso e quindi ero felicissima di registrare l'audiolibro del mio libro ma ero anche molto emozionata e molto consapevole della responsabilità perché mi immagino che non so mi immagino che tutti gli ascoltatori di audiolibri siano pignolini e facciano le pulci come faccio io e quindi mi ero mi ero preparata anche se forse non lo dovrei dire perché poi magari ascoltando l'audiolibro uno dice ah si era preparata e questo è il risultato mi ero preparata tantissimo avevo fatto questo non per l'audiolibro ma per la radio però un corso di edizione e avevo anche iniziato a fare un corso di lettura ad alta voce poi mi sono resa conto che che non lo so io non sono un'attrice forse era giusto che facessi l'autrice e quindi l'ho letto come avrei letto una storia ai miei figli l'ho letto e mi sono appassionata e devo dire che leggere un audiolibro un libro è quasi bello quanto ascoltarlo quindi bello bellissimo trovare le voci no non è stato difficile perché in qualche modo le voci ce le avevo in testa sapevo esattamente come parlavano tutti i personaggi e in qualche modo realizzare e dare voce vera ai personaggi è stato molto divertente ovviamente rileggersi in questo modo così capillare e intenso e non distrattamente come quando magari uno si rilegge è un'operazione tosta perché poi io sono ipercritiche quindi ogni momento dicevo è no vabbè ma qui questa parola non doveva essere così ma no ma questo dialogo non è credibile quindi come dire sono un po provata da questa esperienza però no ecco dare le voci è stato è stato divertente ed è stato quasi naturale gli audiolibri sono grandi perché io credo che siano l'iperbole della bellezza del libro nel senso che leggere un libro rispetto a vedere un film è molto bello perché te lo immagini ascoltare regala un ulteriore tassello di immaginazione come se amplificasse la possibilità di immaginare le cose e quindi è come se il superpotere dell'immaginazione che ti dà un libro fosse fosse esteso anche all'ascolto grazie a tutti Grazie a tutti.